Vittoria doveva essere, vittoria è stata. La Sandra Bate ottiene il secondo successo di fila in campionato. Dopo aver battuto a domicilio a Padova, la formazione di Fausto Scarpitti strappa tre punti d'oro contro la Cormal Polistena sui legni del Del Mauro. Una prestazione quadrata per darci nei soci che vincono di forza 4-2. Il risultato che porta i Verdi e Azzurri a quota 36 punti in classifica, al pari di Pescara in piena zona playoff. Non può che dirsi soddisfatto il tecnico della formazione irpina. È importante vincere qui sia per acquisire fiducia sia per ripagare il pubblico perché tu rifaci riferimento alla partita San Giuseppe. Lì è una ferita aperta perché abbiamo visto il pubblico nelle grandi occasioni e ci è dispiaciuto non portare a casa la gara. Questa è una società che deve ambire a questo tipo di traguardi. C'è stata una fase della stagione che sembrava quasi impossibile poter entrare in questa lotta. Invece tra qualche basso e molti alti questa squadra sta crescendo. Questa squadra rispetto al giro d'andata ha 5 punti in più. Questa è la testimonianza che si sta compattando, che il lavoro fatto con i ragazzi sta venendo fuori. I risultati ci stanno dando ragione. Il prossimo turno valido per la quindicesima giornata del massimo campionato di Futsal, la Sandra Bate affronterà Napoli. Un derby dal sapore antico. I partenopei ad oggi sono secondo in classifica a quota 48 punti. Alle spalle della capolista pesero a 50. L'obiettivo, dichiarato o meno, è sgambettare i cugini, magari vendicando sul campo la sconfitta dell'andata. L'obiettivo, dichiarato o meno, è sgambettare i cugini, magari vendicando sul campo la sconfitta dell'andata. L'obiettivo, dichiarato o meno, è sgambettare i cugini, magari vendicando sul campo la sconfitta dell'andata. L'obiettivo, dichiarato o meno, è sgambettare i cugini, magari vendicando sul campo la sconfitta dell'andata.